E io l'ho fatto crescere Le taglie le faccio crescere Comunque, come ho detto all'inizio Questo è un progetto, una idea Un intrattenimento Quindi il nostro obiettivo è farmi divertire per un po' di tempo Allora, per oggi abbiamo preparato qualcosa di molto carino E quindi cominciamo a ballare Così Quanti siamo? Vedo che già siamo a venti Dai, che deve solire, deve salire Cominciamo così Piano piano Una massa sul posto E poi andiamo un po' un po' avanti con il suo piede Sì? Un, due, tre, fa Un, due, tre, fa Un, due, tre, fa Un, due, tre, fa La testa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Sigueme, sigueme Con lo pie, con lo pie, con lo pie, con lo pie Con lo pie, con lo pie Con lo pie Con el largo pie Se cambia Salta a cara Dale, vamos a dar un poquito de descorso Bebeque Avante, y cierro Avante, y cierro Avante, y cierro Giro 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 Póximo, giro Pero Así no es Hombre, pues eso Parante, 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 parante Parante, parante 1, 2, 3 Ok, ahí Venga, comando Un metro de distancia Giro, giro Oh, reggaeton, reggaeton Reggaeton Giro Ok, vamos Speccy 1, 2, 3, 4, 2, 1 Ache, falliamo tutti Fattiviamo, forza 3 Che que re 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 Giro 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 Venga avanti Venga avanti Dai ragazzi questo è divertente Non dovete essere bravi Dove che sono divertenti Anzi siamo noi Fatevi un applauso Fatevi un applauso Lì da dove siete Faccio un applauso a voi grazie Ok vedo che siamo pronti Siamo pronti Allora salutiamo tutti gli amici Salutiamo tutti quanti Tutti quanti coloro che ci stanno seguendo La lezione La lezione di oggi La lezione di oggi E' una lezione un po' mista Ok? Avevamo Pensato Una lezione Con la maestra da madre Se ci va via per tutte le donne Però non è stato possibile oggi Ma non vi preoccupate Che a molto breve Avremo anche la lezione di gestualità E sapete che ci stiamo organizzando Faremo anche la lezione di reggaeton Ok? Io non ci sono anche Molto presto Molto presto Ma non c'è bisogno Adesso qua Molto presto faremo anche reggaeton E poi stiamo lavorando anche Balli del gruppo E altre cose Va bene? Poi vediamo che ci viene Intanto questo è un po' di tempo Allora Ci hanno chiesto Ci hanno chiesto Premesso che Io difendo Made in Italy Made in Cuba Facendo Made in Italy Forse Italia Che ce la faremo Questo è un momento anche Per stare vicino a tutte quelle persone Che stanno a casa Ok? Io difendo Made in Cuba Sempre Cubano Fino alla morte Oggi domani E sempre Però Ci hanno chiesto di fare anche un po' di baciata Quindi con il rispetto a tutti i grandi maestri e professionisti Della baciata Sensual Non sensual Fusion Non fusion Così Io chiedo soprattutto Rispetto E chiedo Scusa Ai miei amici dominicani Però questo è un momento di intrattenimento Quindi non voglio fare meglio Né più di qualcuno Voglio solo intrattenere le persone che ci stanno seguendo Quindi un applauso per voi Ok Baciata Proviamo a fare alcuni passi Quelli che più o meno non ci vengono E poi una sequenza molto semplice Ok? Quindi Partiamo con il passo base Passo base che tutti conoscono O quelli che non conoscono imparano Sinistra e destra 4 tempi 4 passi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Ok? Questo passo base serve per la base Ok? Quindi per ballare 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Dopodichè Il giro Il giro che serve per fare le figure 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20 20 20 21 20 21 22 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 28 28 18 20 20 20 20 22 21 22 22 24 26 27 le spalle le donne cercate di essere più in questa parte qua base mettiamo un po' di braccia giusto per rilassare le braccia ancora giro inizio prendiamoci qua andiamo a fare un po' di passitos questo è un pochettino più complicato però ci potete tranquillamente seguito molto semplice ora facciamolo di fronte partiamo con il piede che è più comodo che trovate il posto sinistro andiamo in avanti avanti indietro indietro avanti indietro indietro avanti indietro ok avete visto? avanti in in ok ok 5 5 6 6 6 7 3 3 4 3 4 ok adesso passiamo alla parte di coppia quindi potete prendere il vostro consiglio il vostro il vostro il vostro compagno la vostra sorella con chiunque state ballando se state ballando da solo fatele ugualmente ok? non vi dovete proprio preoccupare per questo allora partiamo da qui partiamo da qui una cosa molto semplice per principianti ok? per quelli che vogliono imparare qualcosa partiamo con la base 1 2 3 4 5 6 7 8 ovvio che la baciata si balla un po' più stretti ma manteniamo la sicurezza ok? manteniamo la distanza che è meglio 1 2 3 4 5 6 7 8 sarà semplice saranno due giri per la donna e un giro per l'uomo il primo giro della lama ok? è quello che andremo a fare anzi vediamoci di qua scusate fate il cambio così ci vedete bene il primo giro della donna noi uomini andremo a fare con la guida del destro ok? prendendo il suo sinistro un giro all'interno e un altro giro all'interno ok? vedete che cazzata? semplice 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ok? alziamo il suo sinistro e giriamo verso la nostra sinistra 1 2 3 4 e l'ultimo giro della donna e sinistro con il destro 5 6 7 8 semplice 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 5 6 7 8 più lento? perché non si riesce? qua è così facile guarda guarda 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 con il destro uomo 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 17 18 18 18 18 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 28 22 23 24 25 26 23 28 28 28 29 29 29 30 32 31 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 36 35 36 36 38 36 37 38 38 39 40 41 41 42 42 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok? Ricordate che vi volete fermare per far partire una partita subito Dai! Questa è una canzone di Portus Clark al quale mandiamo un grandissimo saluto Diretamente da Cuba, Roma, cantante, cubano Grazie un saluto per la Portus Clark che sta usando la tua canzone amigo Partiamo con la base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 8 Ok? Adesso provate per il minuto di qua Facciamo con la base Le braccia per il labrassamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 Mi ricordate che parlare anche godenti al momento Ok? Adesso provate per il minuto di qua Per partire con la base e facciamo Vai E ora Pase Otra vez Rive il jambo E e pace e ora facciamo passi e l'hanno uomo post-ministra torna con il destro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dipendiamo passi pace ok aspettate 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 soy negro, soy feo pero soy tu asesino no es la cara ni el cuerpo ma e mi fa no 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 mi vedo troppo seri ragazzi che c'è? che è successo? mi vedo troppo seri dai ripetiamo comunque dai e soy negro soy feo soy bianca soy linda mi faccio il contrario ok io faccio il sbagliato con l'italiano ok sono bianca e uno aspetta una a la volta ma questo italiano no 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 sei nero soy feo sono bianca sono bella però sono il tuo asesino e sono la tua però ti voglio bere non è la cara né il corpo non è la testa non è il corpo è il mio palon divino è la mia mente allora diciamo che io sono Bugo e lei è Morgan anzi no, io sono Morgan e lei è Bugo la testina è buona ok ha fatto tutto il contrario di quello che voleva ok ragazzi molto semplice avete visto quindi niente di che adesso proviamo qui proviamo qui vai con la base base vuelta base brazos vuelta insieme gira la donna ancora uomo la donna ultimo uomo e base e per finire abbraccio casche ok grazie 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 adesso arriva la nostra matasalsa arriva la nostra matasalsa e quindi vediamo 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 qualcosa passo BAM! E' ALGO! E' ESO! SPALE SPALE! BASICO! BASICO! LE BRACHE! UNO! 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 Cintura, cintura, cintura! Vuelta, vuelta! Suave, suave! UNO! 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 SI! UNO! 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 andiamo al basico basico avanti indietro avanti indietro avanti indietro avanti indietro faccio le laterali le spalle eso stiamo andando veloce il dono non ce la fa aspetta guarda non la cintura la cintura a lo cubano lo italiano todo il mondo facciamo insieme la cintura la cintura vueltas otra vez salsas la cintura la cintura la cintura ahi eso es espalda andiamo avanti ok un passo un passo di rumba una base 5 6 7 una cintura una cintura destra destra sinistra destra sinistra salsas una cintura ok ok adesso mettete di fronte si siete incontri mettete di fronte perché non solo se con un po' così un po' così e sinistra, indietro, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, la vuelta, eso era, y ahora de espaldas, que muy feci, repetiamo, con la letra, y, letra, sinistra, letra, indietro, 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 base, la vuelta, y ahora la clave, y dice, cha cha, cha cha, Ehe, bandone, come va, come va, come va ragazzi, vogliamo imposto i commenti, vogliamo imposto i commenti, allora, e salutiamo a Pepito, salutiamo a Paola Monte, Gaetano Di Martino, Valeria Maiello, ciao Ale, un saluto per te e per la piccola Enrico e Lucia, Enso Maritano in mano, Piero Pispino, Gecco e Spaduzzi, Anna Lucia, oh tra tanti colleghi, allora un saluto per tutti i miei colleghi, questo veramente mi fa onore, grazie ai miei colleghi e questa è stata un'iniziativa che abbiamo avuto giusto per intrattenere le persone in questo orario che normalmente ci incontravamo tutti a scuola e abbiamo pensato di farlo noi per la nostra scuola, potete farlo anche voi tranquillamente, però mi fa molto onore vedervi qua, quindi grazie a tutti i miei colleghi che stanno guardando questa diretta, vi voglio bene, no, 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 non ho nessun problema con la musica, perché sapete l'altra volta abbiamo avuto un problema per il copyright, quindi se capo di usare canzone, pallacci sopra o canzone che comunque non si hanno capito, guarda, ecco perché noi stiamo usando le canzoni che normalmente ascoltate nei locali, perché molte di loro sono protette da copyright e non possono essere usate per terzi, quindi uso una musica un po' più cominciare. Comunque avevamo promesso che oggi sarebbe stata una lezione diversa a quella che abbiamo fatto nel giorno precedente, perché tanti di voi ci hanno scritto di far divertire e fare di trattenere anche le persone che non ballano, quindi questa prima parte abbiamo cominciato con un po' di merenghe, poi abbiamo fatto anche baciata e adesso abbiamo fatto una salsa al gruppo, questo tempo che ci rimane, questo altro tempo che ci rimane ci dedichiamo a ballo di coppia, quindi la salsa cubana Cassino che è quella che io da, oramai saranno tra poco 20 anni ragazzi, tra poco 20 anni, ok, difendo, promuovo e insegno la mia scuola, ok, però tutte le altre lezioni che stiamo pensando di fare saranno anche così, perché noi non vogliamo fare il vostro maestro, noi vogliamo solo intrattenervi, in alternativa potete andare a guardare il grande fratello o Barbara Dulce, non lo so, ok, va bene? Ok, allora, abbiamo detto che da questo momento in poi avete bisogno di un parco e di conoscere quelle che sono le basse essenziali della salsa cubana, ok? Perché? Perché arriva la parte di fare figura, quindi di ballare in coppia, va bene? Sììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Questa è la 3-2, ricordate, la 3-2 è quella che si permette capire che il tempo sicuramente sarà quello della salsa cubana, perché? Perché è la clave che identifica veramente la salsa cubana. Il 1 della clave è quando parte il 1 del tuo baldo, sinistro per l'uomo, destra per la donna. Partiamo direttamente con la base che non si confondiamo. La donna si viene a destra, un uomo sinistra, la donna parte dietro con un destro, un uomo sinistra. E facciamo la nostra base, vai. 1, 5, 1, 5, 1, ok. A questo 1 noi andremo a fare il dirle che no, per cui il braccio destro dell'uomo si apre in 1, ok? Vedete che il braccio sinistro e la donna sale verso l'uomo sinistra e la donna. Questa è la prima base del sole. 1, 5, 1, dite che no. 1, 5, basta. 1, 5, 1. 1, 5, 1, 5, con quella 1, 5, o campftenata. 1, 5, dite che no. 1, 5, dite che no. 1, 5, stop. adesso, benissimo allora, oggi vogliamo spiegare la rena la rena perché qualcuno l'ha vista nella lezione che avevamo fatto lunedì e ci hanno chiesto sì, però non ho avuto tempo di capire bene perché sono arrivato tardi alla diretta e quindi è stata la prima quindi qualcuno magari se la prese anche perché è più che una figura è una variazione molto facile da fare soprattutto nell'inizio delle canzoni cubane che maggiormente partono con una musicalità tranquilla non sono timba noi balliamo a salvare casino e quindi in quel floreo che è quello che fa il rumbero ma è un mente però diciamo che il bailador cerca di colorire sto cercando di fare la traduzione italiana colorire la prima parte del ballo con cose che non siano necessariamente difficili né troppe attessose semplici come la rena durante il dirle che no uno, due, tre noi facciamo passare la donna uguale che nel dirle che no però spingendola con il braccio destro nel metodo di qua nel metodo di qua, scusate mettiamoci così tutti quanti ecco allora, diciamo che siamo qui io apro in laterale sinistro e lascio passare la mia donna diritto 5, 6, 7, 8 riprendiamo riprendiamo io uno, due, tre con il braccio destro le spingo 5, 6, 7, 8 la vado a riprendere uno, due, tre questa volta però tengo sempre la mano sulla sua spalla in modo tale che le passi sempre avanti 5, 6, 7, 8 uno, due, tre 5, 6, 7, 8 uno, due, tre 5, 6, 7, 8 la rena ok? quindi siamo in base uno, due, tre ti dirle che no uno, due, tre ancora uno, due, tre la rena uno, due, tre 5, 6, 7, 8 uno, due, tre 5, 6, 7, 8 uno, due, tre 5, 6, 7, 8 per le donne per le donne per le donne dovete semplicemente continuare a camminare avanti ok? e al 7, 8 girare questo giro è verso il vostro destro perché voi state camminando avanti con il destro, no? uno, due, tre 5, 6 7, 8 uno, due, tre 5, 6 7, 8 uno, due, tre 5, 6 verso destra uno, due, tre semplicemente così sarebbe uno, due, tre 5, 6 verso destra uno, due, tre 5, 6 verso destra perché l'uomo ti prende la tua spalla sinistra guarda spalla sinistra do l'uomo mano sulla spalla sinistra e la passi davanti lei gira l'otto fai dirle che no uno, due, tre 5, 6 7, 8 questo non si fa a timbero quindi un atteggiamento come questo sarebbe sbagliato perché non fa parte la figura della timba questa è una figura della salsa cubana casino quindi l'uomo vestiva elegante maggiormente aveva sempre la giacca la cravata il pantalone ok ricordate che alcune delle nostre muovenze nel ballo come queste appartengono anche al nostro stilo di ballo lo spiego sempre ai miei allievi l'uomo del casino si alza sempre il pantalone perché è stato lì che l'uomo ha iniziato a portare i calzini e quindi in quel momento per far vedere che lui era più facoltoso che l'altro alzava sempre il pantalone per far vedere i calzini e lasci anche le scarpe che portava quindi per questo ci stanno alcune gesti come questo in questo caso devi mantenere una postura un po' più francese inglese lord ok quindi sei un uomo che sei vestito non con una maglia come me oggi ma sei vestito con la camicia la giacca quindi devi mantenere questa postura 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 e 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 come farlo a capire la donna molto semplice anche dire che no tu quando ti fermi alzi il braccio sinistro e mantieni la mano sulla sua spalla ok liberando questo suo braccio che non sarà più qua ma che andrà davanti o al limite qui o sul fianco ok quindi abbiamo fatto due volte dire che no siamo arrivati qua e andiamo a fare la regna 1 2 3 5 6 7 la prendi dalle spalla e la fai passare un'altra volta ok si fanno due volte vai con il dire che no e l'apertura cubana ok facciamo questa prima parte qua quanti siamo quanti siamo dove abbiamo morti quanti siamo 5 5 6 6 basta 1 5 1 5 dire che no 1 5 ancora 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 e l'apertura 1 5 1 5 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 6 5 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 6 6 5 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 6 5 6 5 6 6 7 1 2 3 5 6 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 5 6 5 6 7 5 6 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 6 7 8 7 8 8 8 9 9 10 6 9 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 12 13 1, ripetiamo, passa, 1, 5, cambia la mano, via, gira la torna, enciufla e tornillo uomo, avanti, dite che lo, 5, 6, 7, giro insieme, vuelta, enciufla e sombrero, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ok? Ok, ora finiamo con sedentiquattro, sedentiquattro, sei pronto? Come no? Dei bene? Oggi non è bevuto, provo? Oggi non è bevuto, vai a morire qualcosa da bene, prima che finisco, per favore amore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, intanto facciamo un po' di pubblicità, ricordiamo che noi siamo posizionati per carrosseria a fiore a Santa Maria, per riparare la vostra auto, vettura, quando avete qualunque problema, non vi dovete preoccupare, perché lì c'è carrosseria a fiore, siamo posizionati anche per il margaretto, per il vostro cibo da esporto, in questi periodi di crisi, che avete difficoltà, chiamate il margaretto e vi arriva il piatto pronto, non è Alfonso con la pizza, no, 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 è proprio pronto il piatto, la tua pasta, il tuo primo piatto con la carne, vettura e tutto, margaretto, ok? Allora, noi volevamo intanto finire così, mmm, mmm, che ricco, mmm, che ricco, voi come valli a casa ragazzi abbiamo quasi finito, eh? Abbiamo quasi finito. Allora, Allora, Uno, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eso è! Dai, dai, chiamiamo al nonno che ce ne hanno andato Tutti insieme Aspetta Ragazzi non fate più Facciamo figura di merda che questo sta Su Facebook, Instagram Su Instagram già siamo quasi 50 persone Su Facebook siamo più di 20 Bene, ragazzi attenzione Y N C A Ok Quindi Y M C A Noi sbagliamo, pronti? Pronti? 1, 2, 3 E E Rontavolone, rontavolone Tutti sierro Tutti, mi piace tu, mi piace tu, mi piace tu, turno Mi piace tu, 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 turno Tutti sierro Tutti sierro